salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video forse è la volta buona si sembra che il vicopter questo drone della zero zero robotics è un drone super innovativo dal punto di vista della concezione appunto di questo drone per come era fatto per i minuti di volo 50 minuti di volo questo drone con solo due bracci che tutti voi sicuramente vi ricordate perché ha fatto veramente tanto parlare di sé alla sua presentazione al cs dove è stato presentato e dove veramente ha tirato tanta attenzione ma che poi causa pandemia o non pandemia sta di fatto che a distanza di due anni non si è saputo più niente di questo drone il preordine è stato fatto da tantissimi di noi bisognava versare un acconto di 100 dollari per fare questo preordine ma poi il drone non è mai arrivato vari email in cui dicevano che comunque causa pandemia hanno avuto un sacco di ritardi nella produzione dei pezzi e via dicendo tutto questo che in parte sicuramente potrebbe anche essere stato vero però stiamo parlando di due anni di attesa e quindi in tanti hanno disdetto ma io no non ho disdetto perché la presentazione al cs mi aveva convinto talmente tanto che non ho voluto disdire perché al cs comunque stato presentato in maniera concreta era lì volava in hovering e quindi era qualcosa che realmente esisteva non era un diciamo rendering in 3d era un prodotto che si prototipo ma c'era quindi mi hanno convinto talmente tanto che non ho voluto disdire ho detto provo quindi non ho voluto disdire ho rischiato 100 dollari e ragazzi forse mi è andata bene perché sembrerebbe che il bicopter è pronto ad essere spedito e se fosse così io dovrei essere tra i primi che lo ricevono visto che comunque ho fatto il preordine due anni fa speriamo che veramente sia così ea conferma di tutto quello che vi ho appena detto oltre a questa immagine che ci fa vedere la scatola del bicopter con varie scatole dietro pronte ad essere spedite oltre appunto a questo c'è una conferma in più fino adesso non c'era mai stata l'applicazione disponibile da scaricare mentre adesso se andate nel mio caso su app store di ios c'è l'applicazione l'applicazione per poter pilotare questo drone e l'applicazione si chiama appunto di copter ed è una cosa che fino adesso non c'era mai stata quindi in questi due anni l'applicazione non si era mai vista sullo store adesso è arrivata ragazzi guardate la qua l'iconetta di copter in cui abbiamo questo drone a via appunto perché ha solo due braci e vi ricordo 50 minuti di volo dichiarati quindi un drone incredibile per questi aspetti soprattutto per l'ingegnerizzazione e per la durata delle batterie e ragazzi adesso vi voglio far vedere l'applicazione l'applicazione che è questa è l'applicazione bisogna registrarsi per poterla utilizzare come poi tutte le applicazioni ormai bisogna registrarsi per poterle utilizzare quindi ho provato a vedere com'era l'interfaccia che è quella che mi incuriosiva di più anche se ovviamente non avendo il drone connesso si può vedere poco però l'interfaccia ragazzi è questa quindi vado a fare connect qua ci spiega come collegare il radiocomando lo smartphone accendere il radiocomando vi dicendo però in questo caso non ci interessa perché il prodotto comunque attualmente non ce l'abbiamo ma sotto possiamo comunque entrare nell'interfaccia di quello che è l'applicazione per pilotare il drone quindi andiamo cliccare la scritta sotto ed eccolo qua ragazzi omni follow manual control track shot abbiamo tre possibilità andiamo a guardare manual control e ragazzi l'applicazione è questa come vi ho detto non si ha la possibilità di fare niente perché comunque il drone non è connesso comunque l'interfaccia che avrà questa applicazione per il helicopter è questa poi vedete qua dove c'è manual si vado a cliccare posso andare attivare omni follow o track shot quindi abbiamo queste tre funzioni almeno attualmente è così però ragazzi ovviamente non si può fare assolutamente niente perché il drone non è connesso quindi è tutto qua quello che possiamo vedere però è sicuramente un qualcosa in più a conferma dell'immagine delle scatole pronte alla spedizione perché se adesso abbiamo anche l'applicazione è disponibile nello store in questo caso di ios non so se è disponibile anche per android e non ho guardato sicuramente qualcosa si sta muovendo quindi sono contento di questa cosa perché comunque mi ero rassegnato al fatto di avere perso quei 100 dollari invece forse ragazzi forse non sono stati persi e questo ragazzi mi rende tanto felice anche perché potrei avere magari presto il drone vicopter falcon tra le mani e questo sarebbe veramente un'esperienza incredibile da portare qua sul canale perché è un drone sicuramente unico nel suo genere quindi ragazzi se questo video in cui ho portato queste novità riguardanti il vicopter e la possibilità di vederlo qua sul canale vi è piaciuto vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram fatemi sapere comunque nei commenti cosa ne pensate voi di questo drone se secondo voi è la volta buona che arrivi sul mercato o meno quindi scrivetemi qua sotto nei commenti la vostra opinione riguardante il vicopter iscrivetevi sempre se vi va al mio canale terremo offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo un'accensione un test una novità come questa ciao